Buongiorno a tutti, siamo qui quest'oggi per un interessantissimo intervento di Gustavo De Feo, nostro ospite, per parlarci della misurazione tramite radiocarbonio dei materiali e legato a questo concetto della trasparenza nella composizione dei materiali. Chi ha seguito prima l'intervento sulla presentazione del report ha visto che la prima sezione del report è dedicata proprio a che cos'è la pelle e a che cosa pelle non si può chiamare. L'intervento di Gustavo è il procedimento naturale, il prosegue naturale di quello che abbiamo detto prima perché attraverso una sua ricerca di fatto è andato un po' a vedere qual è il contenuto di materiale naturale nei diversi materiali. Gustavo, faccio un attimo di introduzione perché in tanti ti conoscono ma probabilmente non tutti, Gustavo De Feo è CEO di Arstintoria, laboratorio di analisi e ricerca che opera sul mercato con specializzazione conciaria da tanti anni ed è anche delegato IULS della Commissione Prove Tecniche così come della CT dell'Uni e della CT tecnica del CEN che si occupa di prove fisiche sul cuoio. Allora, partiamo magari facendo un po' di contesto generale per andare poi a centrare meglio e a contestualizzare meglio la tua ricerca. Allora, in ambito sostenibilità ed economia circolare, l'abbiamo visto anche nella strategia pubblicata alla fine dell'anno scorso dal Ministero della Transizione Ecologica proprio sulla economia circolare, un ruolo importantissimo è stato dato e sarà sempre di più svolto dalla bioeconomia e all'interno della bioeconomia anche dalla cosiddetta biochimica o biochemistry, se vogliamo così intenderla. Ci puoi raccontare di cosa si tratta e poi di come questo concetto si interfaccia con il concetto di contenuto naturale dei materiali? Bene, già nel 2012 in Commissione Europea è stato presentato questo documento che parla della bioeconomia per l'Europa, come la produzione delle risorse necessarie per tutto quanto abbiamo bisogno partendo dalla biomassa, cioè partendo dalle risorse naturali, carbonio non più fossile, dunque non più derivato di petrolio, ma al massimo diciamo dobbiamo cercare di sviluppare prodotti e risorse partendo dalla biomassa. Questo ha una ricaduta, come vedremo, molto importante sull'ambiente, perché nel momento che noi lavoriamo con un carbonio come quello del petrolio che è stato sepolto per 150 milioni di anni e lo mettiamo in circolazione sulla biosfera, stiamo alterando in maniera permanente le condizioni dell'ambiente. Ok, parliamo quindi di chimica del carbonio e dei cicli della materia, quindi ci puoi spiegare magari anche un po' meglio il concetto di cui stavi parlando prima, quindi del perché un carbonio in un materiale plastico di origine fossile è diverso da un carbonio che posso trovare in un materiale naturale, in queste piante per esempio? Sì, sì, no, prima di tutto abbiamo il problema dell'emissione di CO2 che viene fuori da questo carbonio addizionale che stiamo mettendo sull'ambiente. Chimicamente si può dire carbonio è carbonio, non c'è una differenza sostanziale, però quello che conta è che abbiamo messo tanto CO2 nell'ambiente e questo sta generando l'odierno cambiamento climatico. C'è da dire un'altra cosa, i derivati di petrolio hanno questa tendenza a avere un profilo di degradazione che passa praticamente dalle macroplastiche a microplastiche a nanoplastiche e purtroppo il riciclo che si deve fare da sempre delle plastiche non avviene, si parla che la produzione di plastica di ogni anno sono 300 milioni di tonnellate, questi sono dati dall'ONU, che solo il 9% si ricicla come plastica, solo il 12% è incinerito e il 79% resta accumulato in discariche. E qui che succede? È il profilo di degradazione di questi materiali che purtroppo ancora non sappiamo tutte le ricadute che avranno sui nostri organismi, però sappiamo che le microplastiche a livello intestinale creano dei disturbi nella flora intestinale, sappiamo che a livello fegato creano disturbi nel metabolismo degli acidi grassi, quello si chiama il stress ossidativo, ma ancora peggio le nanoplastiche perché oltre a stress ossidativo e infiammazione a livello intestinale riesce a penetrare quella che si diventa un neurotossico, sono sostanze che si possono accumulare nel cervello, generano disturbi nella barriera lipidica, a questo punto compromettono sia la riproduzione, sia la fecondazione che la riproduzione cellulare e inoltre riesce a penetrare la pelle. Nella Commissione europea già da qualche anno si parla di questo patto verde che va a venire contro al notevole incremento di CO2 che stiamo emettendo nell'ambiente e a questo punto quello che cerca la Commissione europea è arrivare a una riduzione del CO2 ambientale e altri gas serra, cioè CO2, metano e NO2 sono quelli principali, entro il 2050 riuscire a zerarli. I tempi sono difficili, ma questo ci porterà soprattutto al concetto della neutralità carbonica. Dunque noi dobbiamo arrivare al punto in cui non generiamo CO2 addizionale nell'ambiente, dunque quello che teniamo tendremo che dovremo ridurlo al più possibile, però soprattutto non dobbiamo generare CO2 extra. Energie e materiali dovranno essere rinnovabili e circolari e soprattutto a questo punto lavorare in, diciamo, la riduzione netta dei derivati di petrolio. Questo perché? Perché stiamo a questo punto mettendo in circolazione il carbonio addizionale che non c'era sulla biosfera. E lì entra questo concetto bio-based di cui sto lavorando, dove le materie prime sono tutte derivate da biomassa. Cioè dobbiamo a questo punto discriminare questo carbonio che in realtà atomicamente, diciamo, come carbonio è lo stesso, però dobbiamo capire quale proviene dal petrolio e quale proviene a questo punto dalle fonti rinnovabili. E qui la domanda, diciamo, ma come lo possiamo misurare? Per me è molto importante quando parliamo di sostenibilità pensare o ragionare qual è la vera sostenibilità. Per me vera sostenibilità vuol dire lavorare con degli eventi circolari nelle diverse fasi di lavorazione. Io ho sentito tante volte dire sì, diciamo, io sono sostenibile perché compenso attraverso piantare alberi, attraverso investire in foreste il CO2 che genero. Secondo me è molto più importante che ciascuna delle fasi di lavorazione sia circolare, dunque riuscire in questo modo a contenere il CO2 emesso in ciascuna delle fasi. Ok, diciamo che la compensazione in un'ottica di sostenibilità ha senso al netto di tutto l'efficientamento che puoi fare prima. Sì, sì, infatti. Però secondo me deve essere l'estremo razio. Sì, sì, è l'esercizio finale, quando ti rimane un X da compensare. Sì, sì, dobbiamo compensare bene. Però mettiamola tutta per ridurre questo CO2. E come lo possiamo fare? Bene, questo è quello che succede con un materiale 100% sintetico, cioè 100% derivato di petrolio. Dunque io parto dal mio petrolio, genero i miei materiali sintetici, con questi alla fine farò i miei beni di uso. Prima o poi mi tockerà smaltirli. Come? Bene, molto probabilmente, e devo dire questo, purtroppo il meglio che possiamo fare è incinerirli. E con questo andremo a generare il CO2 ambientale, cioè carbonio che è stato sottoterra 150 milioni di anni, adesso lo mettiamo in atmosfera. Purtroppo, e questo lo sappiamo, buona parte di questi materiali durante il lavaggio, durante l'usura, generano delle micro e delle nanoplastiche. E questi creano tutte le insidie di cui abbiamo parlato prima. Nell'eventualità possiamo riciclare una plastica, però sarà inevitabile continuare a generare delle micro e nanoplastiche. E prima o poi dovremo trattarlo in qualche modo. mettiamo che questa plastica fosse biodegradabile. Cosa vuol dire biodegradabile? Che per azione batterica, per esempio, una plastica sarà digerita in CO2 e acqua. Dunque, in ogni modo, anche se il mio materiale è biodegradabile, ritornerà in atmosfera come CO2. E a questo punto, il bilancio del mio materiale sarà questo. Dunque, 100% generato di CO2, niente assorbito dall'ambiente. Adesso pensiamo un materiale 100% biobased dal punto di vista della circolarità. Partiamo come materia prima dal CO2 ambientale. Il CO2 ambientale sarà assorbito e metabolizzato delle piante attraverso la fotosintesi. Quel carbonio sarà trasmesso poi anche agli animali che si cibano di queste piante. Poi noi lo possiamo trasformare, diciamo, un materiale bio in perle, cotone, in lana, canapa. Dunque, tutti i materiali che sono dalla natura li possiamo trasformare in beni d'uso che poi, prima o poi, nella peggiore ipotesi, andranno in incinerimento. Poi vedremo perché, peggiore dell'ipotesi. A questo punto, tornerà ad essere CO2. Nulla è stato generato in più. A questo punto possiamo dire che il nostro bilancio è simile. Sto parlando di contributo intrinseco. Chiaramente lì arrivano tutte le buone pratiche che possiamo implementare e di cui avete parlato nella presentazione precedente. Per esempio, per produrre le mie pelli ho bisogno di energia elettrica, ho bisogno di riscaldare l'acqua. Quell'energia da dove proviene? Bene, più sarà rinnovabile quella porzione di energia, più sarà sostenibile il mio materiale. L'importante è questo. Partiamo già da un buon punto. Il mio carbonio proviene dal CO2 ambientale e ritorna al CO2 ambientale. Nulla è stato aggiunto. Per poter riuscire a capire questo carbonio da dove proviene, in realtà ci si basa su un effetto molto interessante che succede in natura, che praticamente la radiazione cosmica, colpendo l'azoto 14 che è nell'atmosfera, lo trasforma in azoto 14, che è una forma di carbonio radioattiva. Questo si combina con l'ossigeno ambientale e diventa CO2, CO2 14 a questo punto, dunque una forma di CO2 radioattiva, che sarà assorbita dalle piante e poi trasferita anche agli animali che delle piante si cibano. Poi, alla morte di tutti esseri viventi, siano vegetali che animali, questo carbonio 14 lentamente ritorna ad essere azoto 14. Questo è quello che si chiama per noi in chimica tempo di dimezzamento. Vuol dire che in 5.730 anni circa la quantità di carbonio 14 che abbiamo diventa la metà. E per questo il carbonio 14 si utilizza nella tassione storica. Se è un reperto che contiene 50% della quantità del carbonio moderno, vuol dire che ha 5.730 anni. Se ne ha un quarto, circa 11.000 anni. Quindi possiamo usare anche la misurazione del carbonio 14 per capire anche l'età del carbonio di quel materiale. Preciso. E difatti, sì, anche se non possiamo dire precisamente l'età, però il fondamentale è che chiaramente il petrolio, che è alla fine un elemento, un prodotto di origine naturale, diciamo naturale, 150 milioni di anni fa, erano dinosauri, era vegetazione, che poi è diventata carbonio fossile. Chiaramente con questo tempo di dimezzamento, quando si arriva al petrolio, non ce ne sono tracce del carbonio 14. E lì è dove entra il sistema di analisi. E questo è uno studio che stiamo portando avanti con il CNR di Firenze e l'Istituto Nazionale d'Ottica, che hanno sviluppato questo strumento, che è un analizzatore infrarosso che si chiama SCAR, che funziona con una tecnologia molto particolare, con un laser infrarosso ad alta precisione a cascata quantica. Qui abbiamo uno dei prototipi su cui stavamo lavorando. Bene, con questo strumento noi riusciamo a quantificare questi quantitativi minimi di carbonio 14 che troveremo nei materiali. Qui stiamo parlando di tra la parte per quadrilione e la parte per trilione, cioè una quantità infima. Però dalle proporzioni di carbonio che troveremo possiamo a questo punto dire quanto proviene da carbonio fossile e quanto da biomassa. Quindi voi avete di fatto utilizzato la misurazione di questo carbonio 14 con questa macchina sperimentale, comparando diversi materiali che contengono, quantomeno è dichiarato, del materiale naturale. Sì, questo è uno sviluppo che ha fatto il professor Bartalini, che segue questo progetto da diversi anni. La nostra funzione è stata molto umile dentro del progetto, è stata quella di, oltre a trovare l'applicazione, di validarla contro un acceleratore di particelle. Bene, alla fine abbiamo deciso di fare questo, valutiamo come sono promuosi certi materiali raccontati come sostenibili e misuriamo veramente qual è la proporzione tra carbonio organico e carbonio bio-based e carbonio fossile derivato di petrolio. E qui abbiamo i cinque esempi che abbiamo confrontato. Partiamo dal primo, una scarpa, dove il produttore si dichiara che è vegetariano, dove dice che non sono stati ammazzati animali per la produzione di questa scarpa, che non contiene pelle, né piume, né pelli ezotiche, eccetera. Bene, noi sappiamo che nessuno ammazza la mucca per la pelle, però bene, questa è un'altra storia. cosa abbiamo trovato? 100% derivato di petrolio, non c'era un brisciolo di nulla di bio-based. Andiamo a un secondo esempio, questa chiamata come definita PETA approved vegan, di nuovo un tomaio fatto in apple skin, cioè un riciclo dai torsoli e dalle bucce di mela e qui abbiamo trovato 75% di derivati di petrolio. Quindi, Gustavo, giusto per capirci, vuol dire che di fatto per la realizzazione di questo materiale al massimo il 25%? Al massimo il 25%, ma questo vuol dire che il modo in cui questi materiali sono definiti, solo la tomaia per ora, però stiamo portando avanti delle ricerche su tutti i componenti della calzatura, per ora concentriamo, diciamo, era lungo a parlare di tutto, però per ora parliamo solo di tomaia. Io chiaramente non potrei definire questo materiale derivato dalla mela. O bio-based. O bio-based, soprattutto, perché vediamo che il 75% sono polimeri e plastica. anche questo, diciamo, chiamato circolare e poi, diciamo, dichiarato perché contiene almeno un 20% di residui di mela. In questo caso abbiamo trovato circa lo stesso valore, 74% derivato di petrolio. non hanno mentito, nel senso che almeno 20%, stiamo parlando un 26% di derivato di mela, c'era. Però quello che non si racconta è che c'è un 74% di polimeri. È quello che c'è oltre al bio-based. Oltre al bio-based, diciamolo così. Questo è un caso più interessante perché qui c'è una dichiarazione del produttore dove dice che questo, sempre apple skin, è un derivato della polimerizzazione di bucce e torsoli di mele. C'è un concetto che veramente con la chimica si abbina un po' male, nel senso che polimerizzare un torsolo o una buccia di mele non ha un grande senso. però è parte del fairy tale, delle favole che si raccontano a volte dei materiali. Io sono convinto che chi ha acquistato questo materiale per fare le scarpe era convinto che stava acquistando qualcosa di altamente sostenibile. E qui abbiamo visto un compendio di diversi materiali in diversi pezzi di tomaia che abbiamo analizzato tutti puntualmente. Partendo dal primo, è stato molto difficile analizzare questo perché era molto disomogeneo, dunque è un materiale che tendeva a sfibrare tantissimo e dunque lì non sarei 100% sicuro del risultato però il 92% di derivato di petrolio sicuramente c'era e sicuramente non arriverebbe mai a 85% questo sono convinto. Seguenti materiali, questa è la parte bianca, 74% derivato di petrolio, questa è la parte nera indietro, 70%, si arriva al 67% sulla parte color beige. dunque di nuovo stiamo parlando di prodotti dove li possiamo chiamare derivati come in questo caso dall'ananas, dalla mela o anche dal begea che è fatto da uva. Però in tutti i casi abbiamo minimo un 67% di derivati di petrolio. Da base del petrolio. Questo è parte di un progetto che abbiamo seguito dove, devo dire, questa è una scarva fatta con pelle conciata, con una combinazione di tannini naturali e sintetici. Sappiamo che i tannini sintetici sono derivati di petrolio senza aver cercato di ottenere un valore eclatante, semplicemente mi è stato sottoposto, io l'ho analizzato, con la fodera interna fatta in pelle vegetale pura. Risultato? Bene, la fodera mi ha dato un 12% di derivati di petrolio. Qui stiamo parlando di un 88% di carbonio bio. Mentre il tomaio un 16% e questo è un ben 84% di carbonio bio. Se noi estremiamo i nostri sforzi, riusciremo sicuramente ad arrivare vicino al 100%. E posso assicurare questo, io ho analizzato tantissimi tipi di pelle. Ci abbiamo analizzato tantissimi materiali di diverso genere, tantissimi che sono vicino allo zero, cioè vicino al 100% derivati di petrolio. La pelle quando va molto male siamo al 75%. Sto parlando di una pelle altamente ricoperta, diciamo con un effetto nettamente plastico. Magari con conce, con tannini sintetici, con glutaraldeide. Sì, però poi altamente impregnate di polimeri, eccetera. Quando parliamo di pelli, quanto più naturale è l'aspetto e soprattutto nella concia vegetale, otteniamo dei valori che sono elevatissimi. Però, in realtà, si può fare ancora oltre. E c'è un qualcosa che non hanno altri materiali, di cui bisogna parlare più spesso, anche se ne avete parlato anche prima. Questa molecola. Questa molecola è la idrossiprolina. L'idrossiprolina è un materiale che è in natura, e lo troviamo nelle piante, ma lo troviamo anche nella pelle, in un'altissima proporzione. Lo troviamo nelle piante perché praticamente questo amminoacido è generato come protezione allo stress della pianta, ai cambiamenti climatici, alle differenze di temperatura. Dunque, per proteggere la pianta, genera questa sostanza che è un biostimulante. Questo lo otteniamo dalla pelle e tranquillamente possiamo fare questo. Non arrivare all'istanza ultima, come dicevo prima, di incinerire il materiale, però lo trasformiamo in un concime o in un biostimolante. A questo punto abbiamo tagliato la generazione di CO2 e dunque il nostro materiale assorbirà per far crescere più forti le piante, per assorbire più CO2 ambientale e dunque ottenere un bilancio di CO2 positivo. Questo è un concetto, grazie Gustavo, anche se l'avevamo detto prima, di averlo ripreso, anche perché, come dire, tecnicamente e scientificamente qua è spiegato sicuramente meglio. Però è proprio questo l'aspetto centrale. Cioè non solo il fatto che stiamo parlando di carbonio organico e di un ciclo di carbonio organico, ma il fatto che, come dire, fermandoci a uno step intermedio di degradazione che ci porta comunque a molecole organiche, seppur più semplici del collagene come possono essere appunto gli amminoacidi o le proteine, si va ad avere un impiego diretto in agricoltura diretto di queste sostanze. Un altro aspetto importante è che le piante, per assorbire CO2, l'hai detto bene prima, di fatto fotosintetizzano. Fotosintetizzare cosa vuol dire? Che tu devi usare energia, devi usare l'azoto, devi usare l'acqua, quindi adesso concedetemi la semplificazione, la pianta deve far fatica perché fa un lavoro per sintetizzare queste proteine che le servono per la sussistenza a partire dalla CO2. Dandogli la proteina già sintetizzata, di fatto la pianta si trova agevolata, per questo parliamo di biostimolanti, perché di fatto la pianta può utilizzare la fotosintesi e l'energia che prima utilizzava per sintetizzare queste proteine, ad esempio, per crescere più rigogliosa, per fare più frutti, per crescere anche in salute. Tra l'altro, i biostimolanti sono anche un ottimo come dire, propedeutico, diciamolo così, non mi viene il termine, coadiuvante, per la crescita delle piante e soprattutto perché, proprio perché la pianta fa meno fatica, riducono fortemente anche lo stress derivante da fatture abiotici, ad esempio, per il cambiamento climatico, per l'aumentata desertificazione, quindi con tutta una serie di effetti positivi che non mi vanno a emettere, a immettere CO2 seppur naturale nell'atmosfera e mi vanno a dare tutta una serie di vantaggi per l'impiego diretto in agricoltura. Sì, infatti. Bene, dunque, io insisto sempre, difendiamo il bello della pelle, un po' lo abbiamo visto anche nel concetto della bioeconomy, dobbiamo cominciare a pensare i materiali in un altro modo, dunque dobbiamo pensare a tutte le fili che si possono creare intorno al nostro materiale e non pensare più a dire ok, semplicemente è biodegradabile o compostabile e poi quello succede, succede. Ecco, poi un altro concetto importante di cui già avevamo, mi ricollego anche all'intervento di presentazione del report, è che è uscito bene nel tuo intervento e che qui tu hai misurato, cioè tu sei andato a verificare come dire, con delle analisi, con dei test effettivamente quale era la percentuale di materiale naturale e quale non lo era con una ricerca, un'indagine tecnico-scientifica e hai tirato fuori dei numeri, numeri che solitamente anche nelle comunicazioni come dire un po' troppo spostate sull'autodichiarazione di fatto noi non troviamo. Difatti. Grazie Gustavo, veramente interessante. Grazie a voi. Come on! Grazie a tutti.